Un altro aspetto che mi piace rimarcare è la cifra vincente anche di questo partenariato bilaterale nella fiducia dell'Italia nelle dinamiche delle PMI tunisine. Voi sapete che l'Italia è il sistema manifatturiero italiano che è il secondo in Europa, quindi da questo punto di vista abbiamo una forte solidità, esprimiamo una forte solidità economica e è dovuto soprattutto al fatto delle PMI. Ebbene anche voi avete una bellissima rete di PMI e noi creiamo nel vostro sistema tunisino privato e crediamo per questo concediamo linee di credito agevolate per gli investimenti delle PMI. Sono stato recentemente, come sapete, in Cina, un'esperienza molto importante, il secondo forum della cosiddetta Belt and Road, e allora mi piace, fresco di questa esperienza, richiamare un vecchio proverbio cinese. Un singolo filo si può spezzare, ma migliaia di fili messi insieme non si spezzano mai. Ecco, bisogna quindi lavorare, anche piccolo può essere bello, ma bisogna fare sistema. Bisogna creare un sistema integrato in modo che l'una impresa si possa rafforzare con l'altra nel quadro di sistema. Grazie. Grazie.